Vi invito a scegliere nei commenti qual è l'item più inutile di Minecraft Potete pensare che sia la patata velenosa o la freccia con splashing O il tronco di betulla, ma tutte queste cose hanno un'utilità La patata velenosa puoi mangiarla, la freccia con splashing puoi lanciarla Il legno di betulla è comunque un blocco E tutti i blocchi sono un po' utili, ad esempio per fare i ponti Io all'inizio pensavo fosse la pelle di coniglio Perché l'unico craft che puoi fare è con 4 per 1 di pelle Questo significa che servono circa 8 conigli per 1 di pelle Quando la pelle è uno degli item più comuni E in più non serve a praticamente nulla Se non per farti un'armatura orribile, quadri o libri Ma evidentemente nella 1.20 verranno utilizzate per craftare le sacche E quindi per me non è l'item più inutile Non dimentichiamoci di un item super inutile Droppato da un mob senza senso che la community ha votato per averlo nel gioco L'inchiostro luminoso Oh sì, possiamo illuminare i nostri cartelli Yuppie Mi chiedo chi voterà per questo